Entro fine mese sarà completamente ripristinata la viabilità su due corsie per senso di marcia sulle autostrade A14 e A16, lo fa sapere Aspi, Autostrade per l'Italia, in seguito al provvedimento dell'autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l'attuale assetto dei canchieri sulle tratte interessate, che riguardano in particolare l'A14 tra Marche e Abruzzo e l'A16 tra Campagna e Puglia. Ed infatti questa mattina è stato riaperto alle 9.30 il primo dei viadotti oggetto di distanza di dissequestro grazie all'immediato intervento della direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia sul Valle Scura Sud nel Fermano. Da questa mattina il traffico è tornato a scorrere su due corsie e secondo il cronoprogramma di Aspi stanotte lo stesso intervento sarà eseguito sul Santa Giuliana Sud sempre nel Fermano e sul Vomano. In considerazione dei volumi di traffico attesi nei prossimi giorni storicamente più elevati sull'A14 Autostrade per l'Italia ha deciso di attivare già dalla scorsa mezzanotte una riduzione del 50% della quota di propria competenza del pedaggio relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito. La misura, comunica Aspi, resterà in vigore fino alla fine del mese di luglio quando saranno completati gli interventi di ampliamento delle corsie dell'A14. La riduzione spiega la società sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto.